Le associazioni sportive nissene Imera Bike e Family Bike, in collaborazione con i club Special Bike e Lombardo Corse, dopo l'escursione organizzata diverse settimane addietro che ha coinvolto numerosi partecipanti alla riscoperta delle bellezze naturalistiche del territorio, hanno organizzato per domenica 15 dicembre una passeggiata in bicicletta per le vie della città. Sarà dunque un modo per conoscere il centro storico di Caltanissetta. La manifestazione avrà inoltre il nobile scopo di raccogliere dei fondi che verranno destinati ai bambini del centro famiglia La Casa del Sorriso di Caltanissetta. Abbiamo pensato proprio di organizzare un altro evento, però devoluto sempre in beneficenza per questi bambini. Questa manifestazione si svolgerà il giorno 15, domenica il giorno 15 dicembre, in piazza Garibaldi. Lì ci sarà un gazebo dove ci sarà un urna dove raccoglieremo delle offerte libere senza nessun vincolo da parte di nessuno. E cercheremo di raccogliere più fondi possibili per questi ragazzi. Si svolgerà, si partirà alle 9 di mattina e si farà un bel giro. Dove si completerà di nuovo nuovamente in piazza e poi da lì ci saranno dei ringraziamenti per tutti i partecipanti all'evento. Che è partita questa cosa così, per scherzo, però alla fine si è concretizzata molto 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 bene. Vi invito tutti a partecipare, anche se non avete la bici, anche se non avete... Portate i vostri bambini lì, proprio per conoscere questa realtà. In collaborazione con gli amici della Family Bikers, noi dell'Imera Bike e anche in collaborazione con altre squadre, stiamo organizzando un'altra passeggiata in beneficenza per il centro storico delle vie della città. visto che la città non è che offra così tanto, abbiamo pensato bene che fare beneficenza oggi è una cosa abbastanza importante. E a tal punto invitiamo, domenica 15, a essere quanti più numerosi per cercare di fare più beneficenza possibile. Raccoglieremo questi fondi, li trasformeremo in buoni spesa per i bambini e la casa del sorriso. Penso che oggi la beneficenza in questa città sia abbastanza importante. Perché tante persone hanno il bisogno, tant'è che dopo questa, dove speriamo che la città risponde bene, vorremmo fare nel periodo più avanti, probabilmente di febbraio, un'altra manifestazione per fare sempre beneficenza, magari per le famiglie disagiate della città, che penso che ce ne siano tante. Queste cose fanno anche male, però allo stesso tempo è importante aiutare. Perché alla fine abbiamo visto, grazie ad Angelo Risplendente, che mi ha fatto conoscere la realtà e la casa del sorriso, penso che ci sono in questo caso tanti bambini che hanno di bisogno.